Guerra di classe. Hai mai visto in faccia uno di loro? La domanda si perse nell'aria fredda del mattino, vicino alle giovani barbe dei due interlocutori. Stavano seduti su quello che restava di uno scivolo scrostato, in quello che doveva essere stato un parco giochi, solo da piccolo. Ma posso dirti che non sono affatto belle facce. Owen si è sporsa impressionato verso il suo compagno, più vecchio di lui, così vecchio che si diceva che se ne sarebbe dovuto andare pochi mesi più tardi. Quindi sei sopravvissuto? Diavolo Rick, perché non me l'hai detto? La gente ti guarda male se sa che sei un sopravvissuto. Crede che ti abbiano in qualche modo fatto il lavaggio del cervello, il che in parte è vero per forza. Ma puoi uscirne, senza portarne qualche traccia addosso. La cosa che ricordo meglio è il loro odore. Tacquero, osservando da lontano la linea del fronte, sottili colonnine di fumo salivano dai bivacchi. Erano secoli, per quanto ne sapeva Owen, che la guerra durava, e per quanto poteva immaginare non sarebbe mai cessata. Come poteva, se le generazioni si susseguivano l'una dopo l'altra, instancabilmente, dietro le barricate antimissile, da una parte e dall'altra, strette alle loro armi al laser e ai loro proiettili radioattivi. Siamo mondi troppo diversi per andare d'accordo, rumorò il più giovane dei due in tono grave. Rick sghignazzò. Così ti insegnano in realtà. Ma se ci fosse un punto di fusione, un modo per stare in pace, vide la faccia perplessa del compagno. Sai cosa dicono? Che ognuno di noi li abbia visti almeno una volta, solo che non se lo ricorda. È quello che si racconta ai piccoli per farli star buoni la sera. Ma se fosse vero. Attento! Udirono la sirena dell'allarme e scattarono in piedi. Saltarono giù dallo scivolo e corsero alla base blindata più vicina. C'era traffico, come sempre all'inizio di un attacco. Quel carnaio si stava per spostare verso il fronte, uomini, macchine e armi che si preparavano alla battaglia. Per Owen era solo il secondo scontro. Si preparò l'igio e saltò in un buco di accesso alle gallerie sotterranee dove attendevano le navette che lo avrebbero portato nel fulcro del massacro. Cercò di non pensare durante il tragitto, ma in testa aveva ancora le parole di Rick. Se l'avessero sentito parlare così l'avrebbero mandato via, dritto verso lo schieramento nemico senza armi. Chiuse gli occhi frastornato dall'alta velocità e quando li riaprì era al fronte. Capolinea, signori, gridò il suo vicino di posto. Si combatte, fratelli. Si combatte, belbettò Owen in risposta e imbracciato il suo fucile salì all'esterno, riparandosi subito nella torretta. Quando si accostò alla feritoia sentì lo stomaco contorcersi, peggio di quanto ricordasse. I corpi si accattastavano sui corpi in lontananza, dove i bivacchi ardevano e i feriti si trascinavano nella polvere. Centinaia di ragazzi si pigiavano dietro le barricate, in attesa del loro turno per uccidere o venire uccisi. Si sentì scuotere per la spalla da un suo compagno. «Vegliati, stronzo! Serviamo sull'aereo!» Oggi si attacca la città. Dal piccolo velivolo militare la città nemica sembrava un sacchetto di biglie che qualcuno aveva fatto cadere. Le bombe che sganciarono, un ovo entremante a premere il pulsante maledetto, caddero sulla città centrando alcune case. «Sai cosa mi preoccupa, Pivello?» napostrofò il suo compagno. «È tutto troppo tranquillo. Un colpo alla fiancata gli scosse e gli fece sbatacchiare le mascelle con violenza. All'altra parte del fronte c'era lo stesso fermento, gente che impartiva ordini e gente che eseguiva con metodo e fatica. Una donna soffiò nel fischietto argente o che aveva al collo e radunò la sua squadra nell'affollato corridoio della base. Vi voglio tutti nei mezzi corazzati. Tra un minuto. Non più di due persone per veicolo. Avanti!» Sparì. Entrò una saletta dal caldo soffocante e si rivolse all'uomo al centro della stanza. «Generale, quante possibilità abbiamo se attacchiamo via terra?» L'uomo la squadrò. Era ancora giovane, poco più di trent'anni. «Ecco perché era così impulsiva. Calmati e ascoltami. Ho appena mandato la squadra di Gibson al fronte. Non serve che ci vai anche tu. Quindi dia ai tuoi uomini di levare le chiappe dai corazzati. Piuttosto prenditi un pilota migliore di quello della volta scorsa e vola sulla città. T'hanno attaccando». T'acque per un attimo e abbassò la voce. «Voglio il sangue di quegli insolenti pivelli». Jane inspirò profondamente e rimase ferma, incerta se insistere o no. Il generale riposò paterno una mano sulla spalla. «Abbiamo dalla nostra esperienza e costanza. Vinceremo noi questa battaglia. E potremmo vincere anche la guerra, se la smettessi di fare di testa tua». «Adesso non dica che è colpa mia. Tua, come delle altre reclute. Loro sono forti, molto più di noi, ma sono completamente disorganizzati. Pensarono all'attacco e basta. Vogliono lo scontro, i morti, il rumore. Vogliono gli eroi da portare a casa e da ricoprire di romantica gloria per sempre. Sono ragazzi, che ti aspetti». Jane a lui si toccò il cappello e uscì in fretta dalla stanza. Poco dopo si udirono i suoi ordini, impartiti alla squadra. In alto la battaglia prese corpo. Jane si trovò davanti l'aereo nemico e fece fuoco, colpendolo alla fiancata. L'aereo uscillò, persecuota per un attimo e poi la recuperò goffamente. «Bambini!», sputta Jane con Desprezov. «Facciamoli fuori!», si bilò il pilota e strinse l'impugnatura dell'arma che dalla cabina si tendeva verso il cielo davanti a lei. Owen si masseggiò la macella, scuotendosi e posando il dito sul grilletto non appena l'aereo tornò nel mirino. Aspettò che gli si sovrapponesse la piccola croce del vetrino e fece fuoco, ma il nemico scartò bruscamente a sinistra evitando la scarica. Dannazione! «Prendi quota! Ci beccano!», urlò il pilota. In quel momento una raffica di colpi raggiunse il loro velivolo al centro del parabrezza fino a forarlo. Un secondo dopo il pilota sporcava il sedile con il suo sangue e respirava a malapena. Owen urlò, lo scosse, si ritrasse, macchiato di sangue. Nel foro del parabrezza colò della pasta traslucida di riempimento direttamente da uno dei canaletti scavati nel vetro. L'aereo poteva continuare a volare, ma era senza guida. Owen fece quello che gli avevano insegnato. Sollevò il compagno da sotto le braccia, lo scostò dal sedile ignorando il suo gemito, prendendo il suo posto ai comandi dell'aereo. Cercò di nuovo di colpire il velivolo nemico, ma gli era difficile fare due cose insieme. Scese di quota di colpo e invertì la rotta verso la base in ritirata. Stabilì il collegamento radio e parlò in fretta, inciampando sulle S e sulle R, quasi balbettando. Ferito. Seth è stato ferito. Stò rientrando alla base. Ricevuta la conferma dell'operazione, volò verso cieli più sicuri. Appena sceso dall'aereo, vomitò sulla pista. Seth era morto, non ferito. Il personale paramedico si affollò dietro di lui, a bordo del mezzo, per dare la stessa diagnosi. Owen si afferrò a rientrare nella base. Distrutto. Trovò Rick nella sua stanza, steso sul letto con un brazzo fasciato, ad occhi chiusi. Ti hanno ferito? Gli chiese preoccupato, sedendosi sul margine del materasso. Rick incrociò lentamente le braccia sul petto e aprì lentamente gli occhi. Poi scoppiò a ridere. Sì, è stato un pezzo di mattone che sporgeva dal terreno. Io ho lottato strenuamente per mantenere l'equilibrio, sapessi? Poi lui mi ha messo al tappeto. Ah, il bastardo! Sono caduto sopra il mio braccio. Tu invece sembra che hai appena visto un cadavere. Owen state in silenzio, la testa tra le mani. Come? Ci ho preso? Beh, i cadaveri ci saranno sempre. Rick torna serio. Com'è successo? Owen tirò su col naso. Quando parlò, quasi non riconobbe la propria voce. Stavamo volando. Hanno sparato a Seth. L'hanno ucciso. Ho volato con il suo corpo ricoperto di sangue fino a qui. L'hanno ucciso. Rick gli tenne una mano sulla spalla, finché quella non smise di tremare. Rick, pensi che finirà mai questa guerra? No. Rick aspettò di avere una sigaretta in bocca, poi si alzò e si diresse verso la finestra. Guardò fuori un attimo, poi si voltò verso il compagno. Tra pochi mesi me ne andrò. Tu non dovresti nemmeno stare qui a parlare con me. Sono vecchio. Lo senti da quello che dico? Sto diventando troppo vecchio per militare con voi. È cambiato qualcosa in me. Lo sento e credo che non per forza debba essere negativo. Penso che mi presenterò al fronte nemico. Forse mi uccideranno, forse mi terranno con loro. Come puoi pensare una cosa del genere? Sei matto? Rick sospirò. Svegliati, Owen. Dove pensi che siano finiti tutti quelli che hanno combattuto tra i ragazzi anni fa? Non sono morti, cazzo. Sono andati da loro. Sono invecchiati e sono andati da loro. Owen sgranò gli occhi. Ragazzini ribelli contro solidi costruttori di frottole. Giovani contro vecchi, madri e padri contro i figli. Succede questo da generazioni. Lì in mezzo c'è qualcuno che ti somiglia, Owen, e che tu stai combattendo. Vieni qui alla finestra. Si scostò per lasciar guardare l'amico. Cosa vedi? Owen scorse una ragazza nel vecchio parco giochi poco distante dalla base. Si collava il ventre ingrossato, seduta su una panchina. Rick la indicò. È Mabel, sta per avere un figlio. Dopo che sarà nato, lei sarà cresciuta e se ne andrà di qui. Cosa pensi che farà quel bambino? A dodici anni imbraccerà un fucile al laser e vorrà combattere. Tutti i bambini vogliono combattere. Owen corrugò la fronte. Contro chi? I vecchi saranno tutti morti. No, probabilmente contro di voi.